Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi Ragazzi la c'è uno scheletro di mercoledì Gli scheletri mi fan paura perchè ieri ho giocato la exit ragazzi Cominciata la nuova serie e veramente mi ha lasciato senza parole Un bellissimo modpack ho visto che è piaciuto tantissimo Anche a voi ha fatto quasi tanto successo come un mondo di cubi Non me lo sarei mai aspettato davvero E niente quindi sono contento ragazzi Sono veramente contento che vi sia piaciuta l'idea E cos'altro ragazzi cos'altro Andiamo a dormire, mangiamo una patata, solite cose Qua ho fatto ufficialmente il trasloco Ho preso tutta la roba che avevo nell'altra casa Qua sopra nella farm di ferro, lì fuori Quando ho fatto i lavori in corso Insomma la roba che avevo un po' dappertutto E l'ho diciamo portata tutta quanta qua L'ho accantonata tutta quanta in questo angolino E ho anche preso una decisione Infatti questo dove sono adesso è lo sministamento chest Ho notato che ogni episodio Dedichiamo troppo tempo a questo sministamento E voi volete più circuiti Sono sicuro ragazzi Quindi ho deciso che Andremo a programmarne uno solo Ma ogni episodio Logicamente ci sarà magari un episodio Dove ne programmo 500 500 per dire Magari ne programmo 10 Off camera E poi uno con voi Cioè diciamo che cercherò di Qua manca una cassa Cercherò di distribuirlo E somministrarlo a piccole dosi State tranquilli ragazzi Che quando sarà finito questo circuito Per gli scetti Cioè quelli che dicono Ma no Mi sa che non è che sia tutta sta roba Credetemi che quando questo circuito sarà finito Direte Bravo ferre E vedrete che cavolo Cioè Finito al 100% questo circuito Vuol dire che noi arriviamo qua Dovunque siamo andati Apriamo la cassa Posiamo la roba dentro E abbiamo finito Non dobbiamo fare nulla Vogliamo del ferro? Il ferro arriva da solo Vogliamo qualcosa? Arriverà tutto da solo Perché Nelle zone circostanti Andremo a collegare Delle farm Tipo magari faremo una farm di legno Qua vicino Che andrà a smistarsi Infatti qua in questo lato Vorrei fare Tutti i tipi di legno E sarà appunto il prossimo Tra le rigolette progetto Comunque in questo video Andiamo a programmare Il Lapislazzulo Alla lapislazzulo Come si programma? Allora andiamo di qua Guardiamo Appunto se l'abbiamo programmato giusto Qua l'ho già programmato Appunto comunque andiamo Nell'ultimo slot Controlliamo Che ci sia l'opper piazzato bene Quindi uno che guarda di qua Uno che guarda di là Uno che guarda di qua Uno che guarda giù Guardiamo che ci sono due casse Guardiamo che ci sia Soprattutto la torcia Anche la torcia C'è Perfetto C'è anche per il prossimo Vedo Poi andiamo Poi andiamo Al piano superiore E il repeater Qua ci sono tutti Perché li piazzerò sempre tutti La redstone c'è Qua bisogna stare attenti Ai papaveri Poi ve lo spiegherò Poi dopo Perché bisogna stare attenti Ai papaveri E andiamo appunto A programmarlo Qua per questo episodio Ho già programmato Però adesso Lo vado a riprogrammare Insieme a voi Giusto per fare il pignolo Ok Tac e tac Perfetto Parte Dentro ce n'era già uno Quindi dovrebbe essere andato Nella cassa Andiamo a aprire la cassa E non è arrivato Una Ceppa Perché non è arrivata Una ceppa Nella cassa What the fuck What the fouse Perché non è arrivato niente Perché non è arrivato Nulla Non lo so Forse perché Si sarà fermato Logicamente All'hopper Qua sotto Giusto Si E quindi qua non c'è andato nulla Andiamo un po' No non c'è andato nulla Perfetto Allora adesso Proviamo ad andare A smistare tutti questi Lapislazzuli Beh smistiamone uno Per ora Andiamo un po' Parte Perfetto Va fin lì Arriva qui Ok perfetto Un'altra cosa carina Che ho notato È che si possono smistare Tipo così Io posso far tipo così E la roba parte Ragazzi Vedete la roba parte così No sense Più totale Fantastico Guardate che bello Che figata E beh niente Comunque adesso vado a posare Tutti i lapislazzuli Loro si smisteranno Automaticamente Perché così Io voglio E appunto Prima di cominciare Con il progetto di oggi Vi parlo Di due cose Prima di tutto Del nuovo progetto Che ho messo nel libro Vero fam Di cazzus Si di cazzus Cattus Non cazzus L'ho scritto opposto Logicamente non è che Sono un alfabetista E ho ho Che simpatico Ho fatto una doppia battuta Niente Allora Riprenditi ferre Non dire più cavolate Qua ho altri hopper Che voglio assolutamente utilizzare Ho bisogno di usare hopper Devo sprecare hopper Sprecare hopper No scherzo Non è che li voglio sprecare Poi li andrò a mettere qua adesso Ok E li andrò A mettere qua Perché così Potremmo già programmare Il prossimo Il prossimo Che sarà L'osmeraldo Che non possiamo ancora Programmare Cavolo Non possiamo Programmare L'osmeraldo Però Se noi Non programmiamo L'osmeraldo Dobbiamo Idea Ideale Ragazzi Lo so dovevo programmare uno solo Ma ne programmo uno Giusto per il momento Programmo qua i papaveri Ok Adesso vi spiego Qual è il problema Papaveri I papaveri Sono questi deliziosi fiori Che vanno a inceppare Tutto il meccanismo Vedete Perché prima Non mi sono accorto Di un papavero Questo papavero È arrivato tranquillo È partito in quinta E Cioè Questo papavero Questa serie I papaveri Sono partiti in quinta Sono andati a intasare una chest Hanno intasato un comparatore Non è ancora collegato Hanno svuotato Tutta la cassa Del quarzo Quindi bisogna stare attenti Ad ogni modo Ragazzi Dovrebbe essere pronto Proviamo a Mandare a smistare pure Il signor Il signor papavero Nel frattempo Guardiamo qua Il lapisdazzo Che è arrivato tutto Perfetto Sono contento E niente Qua nella cassa redstone Momentaneamente Tengo Il Gli hopper Poi li andremo a prendere Ok Anzi no Perché nella cassa redstone Nella cassa ferro Tanto quando voglio craftarli Vado prendere il ferro da qua Ok I papaveri dovrebbero essere arrivati Direi di sì Perfetto Sono arrivati E voilà ragazzi Voila 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 Perfetto Direi che appunto Abbiamo risolto anche il problema papaveri Che appunto non intaseranno più La nostra vita Infatti Ci sono notari Che qua ho dovuto mettere Ho fatto tutto Fare delle modifiche Ho messo Una scaletta lì Per aprire meglio La cassa E ho messo Delle Pressurplate di ferro E una porta di ferro Si craftano esattamente Come la porta di ferro E le pressurplate di legno Però Ci salveranno Perché Tech4play Un utente Che tra l'altro Lo seguo anche Mi ha fatto Scriver Mi ha fatto scriver Sì Mi ha costretto a scriver Con la forza No scherzo Mi ha fatto notare Che ho utilizzato Troppi hopper Nella Farm Cioè nel metodo Di trasporto E ha ragione Mi ha detto Di utilizzare Dell'acqua Lo so ragazzi L'acqua è un'idea Sicuramente migliore Però E ho notato Che spesso I lunetieri Si glitchano I lingotti Vanno A impiegolarsi Nei cubi Adesso Se parliamo Di cattus Di cattus Si Utilizzano l'acqua Che è Indubbiamente Una Migliore Scelta Ma se parliamo Di lingotti Di ferro Io sinceramente Preferisco Investire Questi hopper In più Che però Aiuteranno A Non Non andare Diciamo Non perderne Più di tanti Quindi quelli Che non perderemo Pian piano Ci ripagheranno Di quelli Che abbiamo Speso Ragazzi E appunto Poi saranno Comunque Lingotti In più E niente Quindi Mi ha anche Dato un consiglio Perché Le avevo detto Che alcuni golem Si spawnavano Qua fuori Il problema Appunto Se succede anche a voi Adesso ve lo posso dire Alcuni golem Si spawnavano fuori Perché Nel raggio Di 80 blocchi Da questa farm 80 70 80 blocchi E I golem Si spawnano E Cioè Ci sono delle porte I golem Si spawnano Non al centro Ma appunto Il centro Viene Scentrato Ecco Scentrato Comunque ragazzi Adesso direi che vado a prendere Il materiale E ci vediamo tra poco Per il progetto Di oggi A proposito di progetti Ehm Qua sotto Non so se farò La farm Di legno O la farm Di polli E Penso La farm Di legno Perché così Andremo a smistare Anche subito Il legno Comunque questo Non si sa ancora Ragazzi Lo vedremo Proprio avanti Direi che Vado appunto A prendere il materiale E ci vediamo tra poco Col progetto di oggi Ok ragazzi Rieccoci Ho qua Un bel po' Di materiali Per fare cosa Ragazzi In questo episodio Cominceremo La costruzione Della base Nel nether Proprio così Allora Ehm Parliamo un secondo Della base Nel nether Parliamo un secondo Un po' di tutto Ragazzi Perché Allora Voglio cominciare A fare un lavoretto Allora Non so ancora bene Dove farlo Penso che lo farò Vicino a casa Giusto per Voglio cominciare A farmare Un po' Di pollastri Quindi Come farò a farmare I pollastri Allora i pollastri Li farmerò Non formerò Li farmerò Qua All'incirca qua Credo che vada bene Sì in questo spazio qua Ok Ok Perfetto Ok direi che così Può bastare Andiamo a rompere Ancora Qua e qua Andiamo a rompere Qui 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 E qui Ok Poi andiamo a Fare uno scavo qua Molto veloce Ok Andiamo a mettere Qua un cubo Andiamo a rompere Questo Perfetto Andiamo a rompere Anche questo Un attimino Andiamo a prendere I sei hopper Che ho nell'inventario Con me E' una cosa Proprio una farm Basilare Proprio la farm Più facile Che si possa fare Con i polli Ok Poi qua Andiamo a prendere Delle slab Mettiamo qua Le slab Perfetto Ok Et voilà Direi che così E' pronta Si è decisamente pronta Ragazzi Vi ho già detto tutto io Praticamente E' una farm di polli Niente Tutto qua La Fine della storia Questa E Avevo la pala Col sintash Per caso No eccola qua Mi sembrava strano La terra Ok Andiamo a tappare Un pochettino tutto Momentaneamente Poi Qua diciamo che Farò delle modifiche Logicamente Però qua Appunto Chiuderemo i nostri polli I nostri carissimi polli Che cominceranno a fare uova A tutto spiano Perché sono polli Logicamente Comunque facciamo attimo Una prova Allora Prendiamo La nostra pala Ok Rompiamo qua Perfetto Vedete che Finalmente cominciamo Andare avanti Ci sblocchiamo Da questo smistamento Proprio a livello psicologico E' difficile sbloccarsi Dallo smistamento Ragazzi Perché E' E' difficile Non ci posso fare niente Allora Andiamo a rompere Un po' di uova Ok Andiamo a rompere Le uova nel paniere Ok Mi servirebbe almeno Un pollo Un pollettino solo Ok Ce ne sono tipo 500 Eccellente Guardate lì I pollastri Che adesso Cresceranno Poi gli daremo I semi Gli daremo Tante belle cose E Li faremo riprodurre Eccetera eccetera Comunque adesso loro Teoricamente Devrebbero cominciare A fare le uova E se voi Non fate le uova Io giuro Che vi ammazzo Anche se siete I polli Giuro che vi ammazzo Qua mi metto Poi la luce Così di notte Non avete paura E niente Noi nel frattempo Andiamo nel nether E cominciamo A costruire Cosa costruiremo ragazzi Costruiremo Una specie di base Peccato che ci serve Del legno Per costruirla Anche si Dimenticavo Tanto legno Penso che prenderemo Uno stack Si E Utilizzerò tutti i materiali Che voi definireste Strani Da utilizzare nel nether Però Li utilizzerò Proprio per quel motivo Lì Ovvero che Nel nether Non si vedono Molto quei materiali Comunque Prendiamo Mezzo stack Di legno Si direi che può bastare Allora Andiamo a Fare già Una torcia Una torcia Si Lasciamo stare Volevo dire una cassa Da mettere per i polli Ma non mi sembra ancora il caso Ok Quindi lasciamo lì I polli tranquilli Cresceranno Si arrangeranno Noi sogniamo nel nether Ragazzi Là c'è il nostro portale E andiamo Dalla fortezza Ehm Il problema quale sarà? Il problema principale Sarà Liberarsi Dei pigmen E Liberarsi Del Dei ghast Liberarsi un po' di tutti Ragazzi Diciamo Come faremo? Utilizzeremo La cobblestone Infatti faremo Una specie di involucro Di cobblestone Che ci protegge Dal mondo esterno Adesso poi ve lo spiego bene Comunque per ora Usciamo Andiamo nel nether Oddio Perché c'è uno scheletro qua? Che cavolo È successo? Dobbiamo Andare più a fondo Ok Ho sbloccato un obiettivo Che avevo già sbloccato Non ho capito perché Ma va bene Ehm Sti obiettivi Devrebbero farci qualcosa Agli sviluppatori Si sbloccano sempre Si bloccano E sbloccano sempre Senza motivo Poi un giorno me lo spiegate Cari sviluppatori Qua sento già dei ghast Eccellente Laggo Come se fosse la prima volta Deveva che vengo nel nether Ma non è possibile Ma si può Ma è incredibile ragazzi Dai per favore Non laggare Dai Non laggare Amico mio Minecraft Non laggare Dai forza Resisti Non laggare Bravo Bravo Non laggare più Perfetto Ce la sta facendo Non laggare Ok Allora Pensiamo un secondo Come agire Come agire No ghast Ti prego Io ti voglio bene Dove fare questi Maledetto Bastinchio Vai Proci No Ok Adesso ti restituisco il favore Vieni qua Fatti vedere Vieni qua Eccoli Ok E ammazziamolo Ammazziamolo Vai via Ok L'ho respinto Non so come ho fatto Ma l'ho respinto Ok Perfetto Allora qua c'è un porta No Ti odio No 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 Allora calma Giochiamo a baseball Con i ghast qua Stami lontano Basta Io devo registrare La piantiamo Ecco sarà meglio Allora Andiamo a fare Un lavoretto Qua Stanno attento a rompicchiare Dei pigmen Ok Andiamo a rompere Il primo strato Di Netherrack Ok Rompiamo il primo strato Di netherrack Qua andremo poi a mettere L'erba Adesso faccio Un piccolo stacco Ragazzi Perché devo raccogliere La netherrack E posizionare l'erba L'erba già Cioè l'erba già nel blocco Appunto E niente Qui faccio questo primo Piccolo stacco E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Rieccoci E c'è già un ghast Che mi spara Dove cavolo è Oddio C'è già un ghast Che mi spara Devo andarmi a nascondere Qua dentro Ragazzi Ehm Ho fatto il prato Come vedete Sì lo so Non è molto bello Farlo da qua Farlo vedere da qua Però E Sono costretto Perché c'è quel maledetto ghast Ghast No Please Devo registrare Per favore Cerca di collaborare Ghast Di Mercoli Gna Combattiamo Vuoi combattere Con me Oh I'm very pro Un attimo Se mi hai droppato La tua stupida lacrima Maledetto ghast Sì eccola Vedo la tua esperienza Sì Lacrima di ghast Eccola qua Mmm Sì E vai Grazie ghast Grazie mille La tua La tua lacrima Allora ragazzi Comunque Chiuso questa parentesi No Altri ghast No Per favore Devo fare una cosa veloce Ragazzi Devo muovermi Ho poco tempo Non posso far venire I video di due ore Allora No pigman Non potete venire qua voi Comunque voglio farvi vedere Che gli alberi Possono crescere Anche nel nether Ok Questa qua Sarà l'altezza Che terremo per il tetto Infatti adesso andrò a fare un tetto Sarà 5 6 7 Di altezza Facciamo una decina di blocchi di altezza Facciamo 8 blocchi di altezza Ok Io vado a prendere un bel po' di ossa Ragazzi Ci vediamo tra poco Con un prato Con il controcazzi Ok ragazzi Rieccoci Ho fatto una copertura Allucinante Qua sopra Guardate che lavorone Che vi ho fatto Mamma mia Comunque Dopo questo lavoro Non mi fermerò ancora Bensì Farò altre slab E andrò a fare Tutta una protezione Assurda Qua intorno Il problema Sono i ghast Ragazzi I ghast Che ogni secondo Si mettono A rompere Le pallottole Ogni Santo Secondo Ogni Secondo Sono noiosissimi Veramente Comunque adesso vado Insieme a voi a fare Un altro lavoretto Ovvero Andiamo a mettere Un po' di torce Qua e là Nel nostro giardino Ok Vi faccio vedere Che ho già fatto La prima porta Che porta La prima porta Che porta Si Al No Dove spari Aha Spara Spara Maledetto Spara finchè vuoi Maledetto Spara Che tanto questo qua Non lo butti giù Neanche se preghi Stupido ghast Comunque Andrò anche a far Crescere Molti alberelli Finalmente Possiamo utilizzare Oddio Mi ho rotto Veramente le scotole No No Allora vai via Vai via Oh Attenzione Avete visto Avete visto Appena guadagnato Oddio Ho spartato una freccia a caso Comunque Il ritorno del Cos'è sta a fare Con questo distrugge un ghast Con una palla di fuoco Oh Wow Ragazzi Avete visto che grande Che grande colpo di maestro L'avete visto il mio colpo di maestro Bene Comunque Adesso posso sprecare Tutto il bomb il che ho Finalmente Ah Guardate che bello Ah Che soddisfazione Questa erba alta 2 La tolgo Perché non mi è mai piaciuta E non mi piacerà mai Esatto Ok Andiamo a togliere A mettere meglio Tutta l'erbetta A Un giardino Nel nether Io posso Io posso Ragazzi I can Chiedi E ti sarà dato Il tuo giardino Nel nether E anche qua Un bel alberello Che è troppo basso Vado subito ad abbattere Lo voglio Epico l'albero Io non lo voglio Con la cacca Allora andiamo a metterne Un altro qua Ok Qua Perfetto Andiamo a farlo crescere Ma no Questo alberello Voglio far crescere io Ok Questo mi piace già di più Qua magari Lo teniamo un attimino Più Ehm Scoperto Con Delle slab Ok No mi piace veramente Un casino sto giardino Ragazzi Mi piace veramente Una cifra Assurda Allora Questo è il giardino Ok Mi piace Mi piace ragazzi Adesso vado ancora a fare un po' di lavoro off camera Ho visto che l'erba non cresce Qua nel nether Mi sembra strano Cioè Teoricamente dovrebbe crescere Io non ho mai sentito dell'erba che non cresce nel nether No sto scherzando È normale che non cresca Siamo nel nether ragazzi Però appunto Adesso andrò a fare un paio di test Vediamo un attimo un paio di cose Più che tutto Faccio Il muro Fatto così Con tanti slab alternati E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Oddio Ho finito pure l'ultimo muro Andiamo a chiuderlo Ok Et voilà Abbiamo finito il nostro giardino Perfetto 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 Cosa ho visto laggiù? Ah niente di che Ok E qua appunto Andrò a fare Una piccola uscita La andrò a fare qua Circa Credo Spero Mi auguro Qua ok Ehm Si forse no Forse più in qua Non lo so Adesso lo devo vedere un attimino No credo che qua vada bene Forse uno più in qui Ok Andiamo a ripiazzare il blocco Dove andava messo Ragazzi Questo è il giardino Non so a voi Ma a me Piace un casino Veramente Mi piace veramente davvero molto Davvero Veramente Veramente Davvero Ehm Diciamo che Ehm E' stato abbastanza duro da fare E con duro intendo Decisamente duro da fare In tutti i sensi Perché Cavolo Un giardino nel nether ragazzi Non è Non è baubau micio micio E' un giardino nel nether Ecco E comunque adesso vado a fare Un po' di staccionete Un po' di staccionate bellissime Eccole qua Che vado a mettere E sparse qua e là Allora adesso Pronto Tolgo tutte le torce Ok Adesso vi spiego anche perché Perché appunto L'illuminazione andrò a fare Con queste staccionate Andremo a fare Nel prossimo episodio Non in questo Una coltivazione Di grano O anche di patate Comunque una coltivazione Nel nether Anche senza L'utilizzo dell'acqua Infatti vi spiegherò Come appunto Si fa a coltivare Senza l'acqua L'erba alla fine È cresciuta anche nel nether Ragazzi Siamo riusciti a far crescere L'erba nel nether L'ho convinto che non crescesse E invece è cresciuta Wow Comunque facciamo crescere Prima gli alberi Ok Dai ti prego albero Collabora Perfetto 10 più a quest'albero 10 più Proviamo un po' Qua faremo la coltivazione Ok Qua Direi che non faccio più nulla Qua ci metto ancora un albero Ancora uno qui Quindi Ok No qua Ok E uno qua Perfetto Vediamo a fare il crescere Tutti Anche sto qua è ottimo Come albero E questo Accettabile Dai va bene Ok abbiamo gli alberi Nel nether Adesso con queste staccionate Andiamo a fare Allora prima di tutto Questo Ok Che sono appunto Delle specie di paletti Per la luce Che stanno molto meglio Delle torce normali Poi andremo a fare Nel prossimo episodio Della coltivazione Appunto Senza l'utilizzo di acqua Perché l'acqua nel nether Non si può usare In nessun modo Ragazzi Ci sono leggende Che dicono Che mettendo il ghiaccio E no Non si può Credetemi che non si può Anche col pack ed ice Non si può Ho controllato Ho provato in tutti i modi Ma è impossibile Ho provato Ho cercato anche su internet Ma non ho visto nessuno Che lo faceva Quindi ragazzi Direi che Ce l'abbiamo fatta Abbiamo costruito Un giardino nel nether Lo screenshot è d'obbligo Quindi screenshot for the win Proprio screenshot for the win L'abbiamo detto Ok Quindi facciamo tipo così Ok Così ci sta Ok Screenshot Ok Sì Screenshot ancora una volta Ancora una volta Ok basta però Se no davvero Se no diventi pesante Perre basta Ok no davvero ragazzi E' una figata Un giardino Nel nether Ok Riprendiamo il controllo Di noi stessi E adesso Direi che andiamo A tappare Momentaneamente Il giardino Ok Poi lo andremo a stappare Quando sarà necessario Direi che adesso Io me ne torno Nel mio mondo In Ponte Nel mondo di cubi E nel prossimo video Andremo a fare Un altro Smistamento Appunto Perché adesso ogni video Se io mi dimentico Voi dovete Diremi nei commenti Ferre ti sei dimenticato Lo smistamento Vi incarico tutti Di farmi il sedere Adesso mi dimentico Perché io sono uno Che si dimentica Di tutto Molto facilmente Qua c'è da secoli L'incendio A causa del ghast Adesso Ero di tapparlo Ero di ribellarsi Al ghast Ok Adesso basta Dircavolate Saliamo E andiamo Nel nostro mondo Alleluia ragazzi Direi che Come al solito Vi invito a lasciare un like Perché youtube è stronzo A commentare Iscrivervi al canale A condividere il video Su facebook A mettere mi piace Alla pagina facebook A fare cosa volete ragazzi E niente Quindi io spero Che il video vi sia piaciuto La casa ormai qua Disabitata Non se la Guarda più nessuno Quindi Io come al solito Vi ringrazio E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti